allora tra poco ti spiegherò innanzitutto ciao buongiorno spostati un attimo bullo tra poco ti spiegherò il perché questi due pinguini qui bullo lasciali stare e oggi si mi vedrai un po scapigliato vedi sono scapigliato questa mattina mi sono dedicato al relax all'amore guarda i capelli qui però non me ne frega niente perché non mi frega niente del giudizio questa mattina infatti ho deciso di fare questa diretta per te al di là della forma di là del dell'abbigliamento del capello perfetto ma pensando solo alla sostanza ovvero quello che può esserti utile oggi infatti io credo che questa diretta al di là che oggi è san valentino vedrai ti sarà utile per capire alcune cose che ho capito io e che ti permetteranno di essere più felice e di far felici più persone possibili perché oggi è san valentino si dice la festa di ogni credino che crede di essere amato vabbè stevin chiare qua sostanzialmente san valentino al di là della di ciò che rappresenta in primis ovvero l'amore no gli innamorati credo che abbia un significato più grande o meglio gli ho dato un significato più grande forse meglio così perché perché se tu ci pensi l'essere innamorati quindi innamorati come lo intendiamo noi è trovare la tua anima gemella figo credo che sia la cosa importante no sai una cosa che dici sai sì il denaro è importante essenziale se non mangiamo le cose fighe sono fighe i soldi servono per appunto toglierci le soddisfazioni però che cos'è che davvero veramente senso alla vita ciò che dà veramente senso alla vita è proprio l'amore veramente l'amore ma l'amore non solo tu e lei o tu e lui quindi anime gemelle incollate l'amore per tutto cioè l'amore per la vita l'amore per questo bellissimo mondo per questa strepitosa nazione in cui viviamo l'amore per gli altri in generale per gli animali è una roba potentissima amare un animale una roba potentissima c'è una roba che veramente solo chi ha per esempio un animale a casa può capirlo e non tutti perché alcuni non riescono a entrare in un certo tipo di rapporto con il proprio animale quanto ci può insegnare un animale quindi oggi per me questa festa no questo san valentino deve essere un po quel monito c'è per andare oltre all'amore inteso come io e te ma iniziando dall'io cioè tu ami te stesso qual è la persona più importante nella tua vita la persona più importante la tua vita sei tu e tu ti stai amando veramente ti stai dedicando del tempo stai facendo qualcosa di buono per te ma di buono sotto tutti i profili dedichi del tempo a scegliere dei cibi giusti per te che facciano bene al tuo corpo al di là della ricreazione dove mangi sai cioccolata quello quell'altro va benissimo anche quello a volte coccolarsi un po no però il resto come lo stai gestendo il corpo come lo stai muovendo come ti stai vestendo come stai dormendo su che letto stai dormendo è comodo è caldo ti piace la tua casa ti stai coccolando e da lì poi come ti stai trattando quali sono i pensieri che ti dici cosa pensi di te quando ti specchi cosa ti dici è molto importante sembrano cose banali ma sono cose molto importanti perché da lì che nasce tutto chi è che potrà realizzare un successo nella tua vita solo tu solo tu non ci può essere qualcun altro io per esempio sono un mezzo posso facilitare il tuo lavoro ma sei tu che farai le tue scelte sei tu che farai le due azioni se tu che otterrà i tuoi risultati quindi questa diretta perché questo video è per tutte le persone per tutti per tutti per tutti quelli che stanno passando anche un brutto momento in cui magari perdono soldi in cui magari sono preoccupati per il futuro ecco fare un brutto pensiero essere preoccupati essere frustrati questo fa male al nostro corpo se ti ami devi sapere che un pensiero realmente crea una biochimica che significa significa se fai un brutto pensiero stai mettendo nel tuo corpo delle sostanze che non ti fanno bene stai bloccando la riproduzione cellulare e allora fare invece un buon pensiero provare un momento d'amore guardando il tuo animale coccolandolo accarezzando i tuoi figli guardando il bello il buono che hai fatto le cose belle insomma provando dell'amore tu invece produci una biochimica che ti darà più forza che ti farà sentire soprattutto meglio l'ossitocina l'endorfina la seritonina su tutte robe che non dobbiamo inserire dall'esterno come purtroppo alcuni medici vogliono che noi crediamo ma realmente possiamo produrre da noi e questo facilita anche le reazioni chimiche anche la digestione digeriamo meglio se siamo sereni se sei arrabbiato se mangi male come si dice no un boccone amaro digerisci male dormi male tutto quello che fai lo farai male perché perché il tuo corpo sente il tuo pensiero la tua energia le vibrazioni cambiano quindi direi che oggi deve essere proprio il giorno per prendere ancora di più consapevolezza di quanto noi siamo importanti nella nostra vita siamo i protagonisti della nostra vita poi espandendo questo raggio questo raggio d'amore dobbiamo guardare intorno a noi abbiamo la nonna che amiamo abbiamo la persona o l'uomo che amiamo abbiamo la persona che amiamo veramente o ci stiamo accontentando o stiamo scappando e qui torno a a questi due personaggetti qua sotto guarda questi personaggetti qui li vedi sono due pinguini una volta vedi un documentario sui pinguini e ti invito a farlo perché i pinguini sono monogamy cioè loro scelgono un partner e basta e il maschio guarda ti faccio vedere una cosa il maschio fa una cosa bellissima il maschio trova il miglior sasso trova il miglior sasso tipo questo ovviamente più grande lo porta alla femmina e gli lo dà come dono come se fosse un anello di fidanzamento lui porta il sasso a lei e quando lei decide di prendere il sasso allora a quel punto loro staranno insieme per sempre senza un vero matrimonio senza il prete senza la promessa per tutti i giorni della mia vita ma realmente così sarà loro faranno del tutto per stare insieme si proteggeranno si aiuteranno soprattutto quando lei andrà a fare a riprodursi quando loro faranno il loro figlio succederà che nascerà questo ci sarà farà uscire questo uovo e sarà veramente difficile con quel freddo mantenere in vita quel quel figlio e si aiuteranno ci sarà un momento in cui lo proteggerà il papà e la mamma andrà fuori poi ci sarà un momento che andrà il papà a prendere il pesce farà una strada lunghissima e alcuni purtroppo non torneranno però una cosa è certa che quando il maschio prende il suo miglior sasso il più bello per lui e lo porta da lei se lei dice sì a quel sasso lei starà per sempre con lui e lui sarà per sempre con lei ed è una roba che non ti nascondo quando ho visto quel quel documentario ti giuro che mi sono commosso ti giuro perché era una roba vera vera non era un film una roba vera ovviamente tutti in branco si aiutavano uno vicino all'altro qualcuno perdeva questo questo uovo era alcune scene erano difficili da accettare perché quando ami quando ami il mondo quando ami le cose soffri anche per chi non conosci soffri per un animale questo è l'essere umano non è quello che vogliono dipingere là fuori ovvero che siamo cattivi che siamo pronti a fare la festa al prossimo è vero ci sono tante persone che vivono una brutta situazione invece di costruire distruggono magari qualcosa degli altri ma queste sono ovviamente sono delle variabili che ci possono essere ma sono quelle eccezioni che confermano una regola ovvero che l'essere umano ha un cuore che batte forte oggi dobbiamo onorare questo cuore siamo tutti così noi siamo tutti così al di là di altre abitudini in altre culture noi siamo così noi siamo fatti per fare questo e io non so se tu già hai trovato il tuo pinguino la tua pinguina della tua vita io penso di sì e ho avuto delle compagne fantastiche ho avuto delle relazioni che mi hanno dato tantissimo anche per imparare a crescere e oggi sono felicissimo con il mio amore il mio amore dov'è ci stai puoi apparire un attimo di va si certo ok pure tu stai in pigiama andiamo bene stavo parlando dei 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 pinguini e gli ho raccontato di quella sì con i capelli dritti io gli ho raccontato di quel documentario che abbiamo visto sui pinguini dove ok dove la femmina poi a un certo punto lascia il piccolo nelle mani dell'uomo e va a prendere il cibo quindi va lontano quanti erano sei mesi molti mesi la vittura lei si allontana e lui resta senza mangiare cioè lui sta fermo senza mangiare a covare questo uovo una roba anche di benziata quanti chili perde cioè una roba mi è rimasto impresso quanto abbiamo pianto una volta non lo so perché purtroppo in questo documentario facevano vedere pure questi 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 forelli che non ce la facevano in mezzo al branco uova che andavano in giro partiva un 100 tornavano in 80 70 quindi i problemi di nostri oggi sono tanti qui col covite quelle cose però credetemi che la è importantissimo il denaro è importantissimo sai io sono il primo questo sempre parla di business aziende è vero però il denaro non può dar senso alla vita l'unica cosa che dà senso alla vita ragazzi è l'amore quindi non prendiamoci in giro se oggi stai scappando dall'amore riconsidera il tutto perché non amare significa morte e quindi non stai vivendo senza l'amore poi può capitarti uno stronzo anche lei è un po stronza io almeno volta settimana la devo mettere in castigo e quindi come anche io sono un po stronzo ma comunque sta di fatto che realmente che senso ha la vita senza una relazione quindi io ah ti faccio vedere una cosa glielo faccio vedere l'angolo dell'amore va bene ok allora praticamente devi sapere che io non mi sono mai tanto occupato di fronzoli fronzoletti e adesso ti faccio vedere che cosa è successo qua guarda questo è tatiana guarda foto fotine fotette lettere cose che per me quando vedevo ste cose gli altri sono matti ma che cazzo ste minchiate da 15 anni questi teenager e invece guarda adesso abbiamo anche le palle di natale queste sono le palle di natale con le nostre facce col ti amo sta roba qua le fotine abbiamo la foto del no guarda abbiamo una foto del faccio di questa qua guarda del 1920 la vedi ma che ci frega questa roba qua è che se l'ho fatto io sicuramente lo puoi fare tu io ero il barbaro più barbaro dei barbari cioè veramente le mie relazioni nel passato oltre a non funzionare ho sofferto sempre come un cane perché venivo costantemente lasciato realmente non funzionavano ma perché non funzionavo io perché avevo paura solo di soffrire e certo si può soffrire con amore no perché comunque se ti lascia la donna che o l'uomo che ami ti fai male ti fa male perché soffri perché sai che non è una roba che puoi andare a ricomprare il supermercato però ti faccio una domanda se uno deve aver paura di soffrire perdendo quello che è bello dici sai leonardo ma se io mi apro una donna o un uomo insomma se mi apro l'amore vivo due anni fantastici bellissimi e poi però se questa donna questo uomo mi lascia io sto male sto proprio male cazzo proprio male 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 quindi ho paura e quindi no l'amore è una minchiata allora ti dico questo se tu non ti apri l'amore ovvero non passi quei due anni bellissimi primo ti perdi due anni stupendi poi sempre nell'ipotesi che quella storia debba avvenire perché non è detto che debba avvenire non è detto io io non so come andrà contadiana ma non mi interessa ma non so neanche come andrà la mia vita potrei ricevere un fulmine mentre salgo sul terrazzo su una sera e quindi rimanere là che cazzo lo posso avere e che fai allora non vivi dici sai non mi incarno perché se noi potessimo scegliere se incarnarci o no dici no non mi incarno perché se mi incarno poi ci può stare un incidente a scuola stanno i bulli c'è il covid ma non mi incarno no ma lascia perdere cioè se dovessimo noi ragionare così neanche il nostro corpo funzionerebbe no? cioè tu ti fai una ferita e le celluline incominciano a dire no ma che andiamo a fare là e tanto se vai lì e poi usciamo cioè il globulo rosso va lì e dice cazzo se rimaniamo fuori dal corpo moriamoci secchiamo là fuori che dobbiamo diventare una crosta per salvare il corpo ma sti cavoli ma andiamoci qualcun altro a chiudere quella ferita e se tu ti facessero così poi muori dissanguato quindi realmente noi il nostro ego ce lo dovremmo mettere un attimo sotto i piedi e iniziare a pensare che ciò che dà senso ciò che muove i mondi li rende vivi come diceva qualcuno Einstein, Giordano Bruno e altri legiti un po' di roba del passato è l'amore e essere disposti a rischiare di soffrire perché poi il rischio ovviamente c'è come aprire un'azienda non è detto che debba per forza andare bene però da imprenditore ti dico questo come in amore perché poi lo sto sperimentando in questi ultimi 20 anni diciamo 15 anni da quando ho cambiato un po' marcia e che realmente non sembra ma un po' tutto è sotto il nostro controllo cioè se io ripenso a Leonardo che veniva lasciato puntualmente fino a quando avevo 20 anni diciamo fondamentalmente io penso a un Leonardo totalmente diverso penso a un Leonardo in cui mancava la cosa principale l'amore per se stessi cioè io non mi amavo e quindi non amandomi chi è che può amarti? chi è che ama l'ombra di se stesso? nessuno perché io ero il gatto o il cane della mia compagna perché avevo paura di perderla non facevo nulla per me non stavo evolvendo non ho fatto nulla e oggi se facessi gli stessi errori con lei succederebbe io penso la stessa cosa lei mi darebbe degli avvisi amore quando è l'ultima volta che mi hai fatto una sorpresa che mi hai portato qui mi hai portato lì che mi hai detto questo che mi hai fatto quello che mi hai massaggiato un piede che mi hai fatto quell'altro cioè l'amore è un continuo investimento nel momento in cui non andrò più ad investire nella nostra relazione probabilmente lei cambierà ma secondo te ti faccio quest'ultima domanda e poi ti lascio la tua giornata per viverla poi nell'amore più assoluto per te e per chi è vicino ma se io da adesso smettessi di amare me stesso di investire in me stesso secondo te non avrei lo stesso risultato sì, continuerei a nutrire il nostro rapporto dandogli attenzioni dandogli quindi l'amore però magari incomincio a lasciarmi andare incomincio a non fare nulla per me in più incomincio a spingermi in avanti solo per gli obblighi sì, mi do alzare per andare a fare questo per lavoro poi il resto del tempo dormo e poi non ho mai uno stimolo perdo la forma fisica perdo, che ne so tutte ste robe qui anche a livello di felicità che quando non fai le cose importanti per te o utili cambia anche il tuo stato quindi inizia a essere più incazzato nervoso secondo te non cambierà inevitabilmente il nostro rapporto quindi vedi che è vero che non puoi sapere come andrà la tua storia d'amore ma io posso dirti almeno per quel che ho vissuto e poi chi mi ha conosciuto dal vivo soprattutto nei miei percorsi lo sa perché glielo ho dimostrato proprio specificatamente con l'esempio mio e anche con delle formule se vuoi quando tu sei un vincente cioè punti a vincere punti a fare poi vincente non si intende arrivare primo cioè punti a raggiungere i tuoi obiettivi sei uno che si impegna a investire su se stesso in primis e poi ovviamente sugli altri guarda che sarà veramente difficile essere lasciato cioè ti devi proprio impegnare oppure magari siete persone che avete dei valori diversi allora a quel punto se siete persone con valori diversi allora è giusto non stare insieme ed è sbagliato stare un giorno insieme in più quindi se tu investi su te stesso se tu sei uno pensa a un eroe cioè chi è per te l'eroe? è quello che salva le persone quello che... cioè immagina Superman no? chi è che lascerebbe Superman? cioè lui Superman potrebbe essere lasciato solo perché non dà tempo alla propria compagna e sta sempre a salvare il mondo e quello è un eccesso ma se tu pensi a un Superman che nel momento Clark Kent sta con la prima compagna e in un momento salva il mondo ed è comunque un bel ragazzo che è sicura che ha il suo lavoro cioè ma chi è che lascerebbe Superman? per me nessuno e io penso che dentro ognuno di noi c'è una parte di Superman o di Wonder Woman ognuno di noi soltanto che per pigrizia per paura per diversi motivi non ci va di tirarla fuori tutto qua questo è ciò che credo ma almeno è quello che è successo nella mia vita al momento in cui ho detto cazzo ma perché non posso avere un mantello anch'io facendo più sforzo degli altri quando devo lavorare leggendo di più quando devo leggere impegnandomi quando devo o aiutando gli altri quando posso ecco dal momento in cui ho deciso di mettermi il mantello la mia vita è cambiata ora io ti invito a riflettere su questo ti va di metterti il mantello e mettersi il mantello significa iniziare ad amare di più te stesso e gli altri se tu farai questo vedrai che al prossimo San Valentino probabilmente questa diretta la farai tu dove dirai quanto in un anno la tua vita è cambiata e questo credo che lo può fare chiunque anche chi non ha un becco di un quattrino chi è in difficoltà oggi magari chi è anche in ospedale con un problema fisico si può io l'ho passate tutte quindi si può risolvere veramente tutto c'è solo una cosa che non si può risolvere ovviamente se passi a miglior vita ma posso assicurarti che per il resto si può risolvere tutto basta la volontà e quindi oggi questo video e a volte mi auguro che tu potrai condividerlo per mandare questo messaggio più lontano il senso è questo quanto ti stai amando quanto stai celebrando l'amore per te e quanto è importante in questo momento l'amore nella tua vita perché se non è molto importante inizia ad amarti di più e inizia a cercare quello che è l'amore tuo importante perché vedrai che quello darà senso alla vita amerai di più tutto e tutti quando noi siamo nell'amore quando noi siamo felici diamo il meglio di noi quando siamo incazzati quando siamo frustrati purtroppo anche la persona più buona del mondo inizia a fare del male agli altri purtroppo noi siamo degli esseri che costantemente condividiamo e se stiamo bene condividiamo il bene se stiamo male condividiamo il male questa è la risposta anche a quella magari idea che hai avuto prima dicendo ma non è vero che gli esseri umani stanno qui per aiutare gli altri hanno lo stimo certi sono proprio degli stronzi è vero certi merito proprio di andare all'inferno è vero ma il problema è uno è che loro chi si comporta male all'inferno ci sta già ciao ciao